Il sindaco di Niscemi Non siamo ancora soddisfatti perché per tamponare l'emergenza in questa città ci vogliono tutte le figure così come abbiamo bisogno di un pronto soccorso autonome. Non ci fermeremo e da qui ripartiremo per ottenere quello che alla nostra città ci aspetta. Noi l'una ne abbiamo chiesto perché siamo delle persone che abbiamo tanto onestà intellettuale però che si deve prendere delle responsabilità. Analoga tesi è stata rivendicata dal vicepresidente del consiglio comunale di Niscemi Luigi Igualato a margine della visita compiuta dai due dirigenti generali dell'ASP Nissena. L'uscente Ida Grozzi e il subentrante Carmelo Iacono. Avremo modo come abbiamo appreso dal nuovo direttore generale con cui ci confronteremo come abbiamo fatto sempre nel rispetto ovviamente delle istituzioni ma ancora di più del singolo cittadino e man mano non faremo sconti a nessuno sulla problematica sanitaria non solo per quanto concerne medici ma anche infermieri ma anche autisti qualunque categoria deve essere sempre rispettata. Intanto da Galtagerone giunge anche la solidarietà dal sindaco Nicola Bonanno che si recherà a Niscemi per rafforzare la protesta del primo cittadino niscemese. Esprimo solidarietà al sindaco di Niscemi per il presidio dell'occupazione dell'ospedale di Niscemi. Questo è un segnale forte che ci accomuna tutti quanti. Questo segnale sarà da me condiviso e domani andrò assieme al sindaco di Niscemi a presidiare lo stesso ospedale. Grazie a tutti.